Mancano ormai pochissimi giorni all'inizio dell'estate 2011 e già Rimini comincia a riempirsi di turisti vogliosi del primo sole. Ma tanti sono i grattacapi che affliggono gli operatori balneari. Dopo il dietro fronte del governo sulle concessioni per 90 anni, poi diventati 20, sembra che oggi si stia andando verso il totale stralcio di queste norme che si pongono alla luce della direttiva europea Bolkestein che tende ad una maggiore liberalizzazione del settore. E a Rimini in particolare i bagnini vivono maggiori preoccupazioni dopo che la procura ha messo in sequestro centinaia di abusi edilizi sull'arenile, abusi che riguardano solitamente strutture leggere come gazebo e simili. Forte la protesta degli operatori che vedono minacciato l'inizio stagione e che, arrabbiati come non mai, accusano le istituzioni di aver reso fuori legge manufatti esistenti da oltre 20 anni che fino a ieri non violavano nessuna legge. Chi ha davvero abusato deve pagare. Vogliamo seguire alla lettera ciò che ci impone il nuovo piano spiaggia, ma questo richiede del tempo. Tuonano così dalle associazioni di categoria pronte per la nuova stagione 2011. E a poche ore dal ballottaggio questa patata bollente sarà in mano al nuovo sindaco della città, una città che sotto il primo caldo è già pronta a riempirsi di turisti.